vi leggerò adesso una preghiera a san michele arcangelo guardate che bello san michele arcangelo che sottomette il diavolo e c'è una preghiera che possiamo recitare in cui chiediamo a san michele arcangelo che è il custode del popolo di dio quindi della chiesa chiediamo appunto a san michele di proteggerci la scrittura dice che dio ha messo san michele arcangelo che è uno dei dei primi principi quindi uno che sta a capo un angelo che sta a capo di un esercito celeste e come dice nel libro di daniele come si legge nel libro di daniele san michele arcangelo è il colui che protegge il popolo di dio quindi la chiesa nel capitolo 12 di daniele leggiamo che quando ci sarà la grande tribolazione sorgerà michele colui che sta come difensore del popolo di dio e in apocalisse nel capitolo 12 leggiamo di questa guerra che c'è stato in cielo dove san michele arcangelo ha vinto il diavolo è stato quindi scagliato sulla terra quindi vedete san michele arcangelo ha vinto il diavolo ora tra parentesi prima di leggervi questa questa preghiera di intercessione da parte del dell'arcangelo di san michele arcangelo vi voglio brevemente leggere due scritture tratte dall'apocalisse questo lo dico per per isola scrittura insomma per tutte queste sette protestanti che vengono da lutero quindi evangelici testimoni di geova battisti pentecostali avventisti eccetera eccetera dove loro cosa vi dicono che noi non possiamo chiedere per esempio a un angelo a san michele o ai santi alla beata vergine secondo loro noi non possiamo chiedere intercessione cioè non possiamo chiedere a loro che pregano per noi questo chiaramente il loro modo di pensare è errato e in fin dei conti queste sette sono come i farisei che puntano il dito e ti vogliono accusare secondo quello che loro pensano che sarebbe sbagliato ma la bibbia è chiara a questo riguardo per esempio se prendiamo apocalisse nel capitolo 5 il versetto 8 leggiamo che ci sono questi quattro esseri viventi o i quattro cherubini quindi si parla di angeli e questi dice che avevano ciascuno ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi che sono le preghiere dei santi quindi qui troviamo le quattro cherubini che stanno intorno al trono di dio che hanno queste coppe d'oro colme di profumi questi profumi dice che sono le preghiere dei santi è chiaro quindi che le preghiere dei santi quindi le preghiere che noi facciamo e che fanno anche tutti i santi anche in cielo perché i santi pregono anche in cielo queste preghiere vengono raccolte dentro queste coppe d'oro e quindi di conseguenza queste questi quattro cherubini presentano queste preghiere a dio quindi vedete scritturale che noi chiediamo intercessione agli angeli per esempio a san michele arcangelo un altro esempio lo troviamo in apocalisse nel capitolo 8 e qui è ancora più evidente la cosa questo lo dico per turare la bocca ai sola scrittura ai protestanti quando loro ci accusano ecco potete usare queste queste scritture capitolo 8 di apocalisse nel versetto 3 leggiamo venne un altro angelo e si fermò presso l'altare reggendo un incenziere d'oro ora l'altare questo angelo che si presenta presso l'altare dovete sapere che l'altare nel capitolo 6 si trova in cielo infatti nel capitolo 6 di apocalisse nel versetto 9 leggiamo quando l'agnello aprì il quinto sigillo vidi sotto l'altare quindi vedete l'altare è in cielo e che cosa vide giovanni sotto l'altare vidi le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di dio e della testimonianza che gli avevano reso e gridarono a gran voce fino a quando sovrano tu che sei santo e veritiero non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra quindi vedete le anime dei santi sotto l'altare in cielo l'altare si trova presso il trono di dio ecco che pregano allora venne data a ciascuno di loro una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro quindi le anime dei santi martiri si trovano sotto l'altare e quest'altare poi lo troviamo nel capitolo 8 di apocalisse dove c'è questo angelo che reggendo un incensiere d'oro l'incensiere d'oro abbiamo visto prima che cosa rappresenta e rappresenta le preghiere dei santi l'abbiamo prima letto in apocalisse capitolo 5 versetto 8 quindi cosa fa quest'angelo reggendo questo incensiere d'oro apocalisse 8 versetto 3 gli furono dati molti profumi perché li offrisse assieme alle preghiere di tutti i santi tutti i santi non metà santi una parte qui dice tutti i santi quindi i santi qui chi sono l'angelo dove si ferma si ferma davanti l'altare nell'altare che ci sono sotto l'altare ci sono le anime dei martiri quindi quando qui dice le preghiere di tutti i santi è chiaro che si sta riferendo alle preghiere di tutti i santi quindi i santi martiri che in cielo pregono per noi e anche i santi che si trovano qui sulla terra che preghiamo tutti l'uno per l'altro anche noi qui sulla terra intercediamo per il nostro prossimo chiediamo preghiamo per il nostro fratello e per la nostra sorella quindi quest'angelo qui dice si presenta davanti l'altare dove ci sono le anime dei santi gli vengono dati molti profumi perché li offrisse questi profumi insieme alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro sull'altare d'oro dove sotto l'altare ci sono le anime dei santi martiri quindi queste preghiere questo angelo li offre a dio sull'altare d'oro vedete gli angeli quindi intercedono le nostre preghiere arrivano agli angeli gli angeli li portano a dio quindi sull'altare d'oro posto davanti al trono e dalla mano dell'angelo valate bene dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a dio insieme alle preghiere dei santi quindi vedete dalla mano dell'angelo le preghiere salgono a dio insieme alle preghiere di tutti i santi quindi i santi martiri pregano noi che siamo qui sulla terra preghiamo anche insieme ai santi che già sono col signore quindi vedete è scritturale quello che noi facciamo noi cattolici è scritturale e ora quindi vi leggerò questa bellissima preghiera di intercessione a san michele arcangelo vi ricordo che gli angeli qui quest'angelo prende questi queste preghiere e li offre a dio quindi ascoltate questa preghiera e vi consiglio di recitarla io tra l'altro tengo san michele arcangelo sempre nella mia bibbia o principe gloriosissimo delle milizie celesti san michele arcangelo difendici nei combattimenti e nelle lotte terribili che dobbiamo sostenere in questo mondo contro il nemico infernale vieni in aiuto agli uomini combatti ora con l'esercito degli angeli santi le battaglie del signore come già pugnasti contro il capo degli orgogliosi lucifero e gli angeli decaduti che lo seguirono tu principe invingibile soccorri il popolo di dio e procuragli la vittoria tu che la santa chiesa venera come custode e patrono e si gloria di avere a suo difensore contro le malvagie dell'inferno tu a cui l'eterno ha confidato le anime per condurle nella celeste beatitudine prega per noi il dio della pace affinché il demonio sia umiliato e vinto e più non possa tenere gli uomini sotto la schiavitù né nuocere alla santa chiesa offri al trono dell'altissimo le nostre preghiere affinché le sue misericordie scendano tosto su noi e l'infernale nemico più non possa sedurre e perdere il popolo cristiano così sia bene qui vi saluto una buona e santa giornata a tutti